Matteo Renzi ha presentato alla stampa i 20 nuovi direttori dei musei pubblici scelti attraverso la selezione nazionale avviata quest'estate, tra in questi molti stranieri, come nel caso del tedesco Eike Schmidt, che guiderà la Galleria degli Uffizi di Firenze. Il Premier accompagnato dal Ministro della Cultura Franceschini ha annunciato l'Italia si avvia verso un modello anglosassone, rispondendo così alle polemiche estive.